Il film che è di ispirazione. Mi sono davvero rivista in tutti i personaggi, mi è piaciuto tantissimo. Più che altro mi è piaciuto tanto il messaggio, nel senso come se fosse un inno alla libertà. Vorrei proporre la missione di un nuovo membro. Le mie ragazze hanno un talento per le monellerie. Beh, ce l'ho anch'io. Joe è il personaggio più rappresentativo e sicuramente il personaggio che rompe di più con la tradizione precedente, cercando un'identità che non sia solo quella dettata dalla famiglia, dai figli e dal marito, ma un'identità che nasce da se stessi, dalla propria inventiva, dalla propria fantasia e dalla voglia di superare qualsiasi limite. Sono così stanca di sentir dire che l'amore è l'unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. Ho apprezzato tantissimo il montaggio del film. Soltanto da Gerwin poteva dare quella freschezza e quella sensibilità e ancora una volta ci dimostra come i classici a volte ci possano spaventare per la loro modernità. Nessuno fa strada nel mondo da solo. Ti dovrai sposare bene. Ma tu non sei sposata, zia Marge. Ma che c'entra? Io sono ricca. Grazie. 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 Grazie.